La presentazione di questa serata è in memoria intitolato a Matteo Pavan che è ancora vivo il suo ricordo perché è stato un sostenitore del Grignano e comunque una persona sempre vicina al calcio e per continuare appunto a mantenere vivo questo ricordo abbiamo deciso di intitolare a lui un triangolare dove ci sono Grignano che è squadra ospite dove c'è il calcio Rovio che subito si è prestata molto disponibile a partecipare perché per vari motivi anche a Rovigo ha lasciato una traccia importante a Matteo e il due Carare che è stato chiamato e che ben volentieri si presta a partecipare a questo torneo. Speriamo che sia una serata di divertimento, ricordiamo la famiglia, Matteo ha lasciato dei figli che Tommaso gioca con noi e Andrea gioca nel San Pio credo quest'anno e quindi è una famiglia che è sempre stata dentro dello sport e noi vogliamo mantenere alto il suo ricordo. Abbiamo accolto con grande piacere l'invito della Polisportiva Grignano di partecipare a questo Memorial Matteo Pavan in un impianto tra l'altro bellissimo tenuto dalla Polisportiva Grignano e come calcio Rovigo partecipiamo non solo per la vicinanza che tra l'altro abbiamo tra le due società ma anche per il rapporto che legava Matteo al calcio Rovigo. Pavan è stato un grande dirigente del settore giovanile del Rovigo, ha dato molto al calcio, non solo a quello rodigino e quindi è molto bello che la Polisportiva, visto che lui era anche di queste zone, l'abbia voluto ricordare e noi con onore e con orgoglio partecipiamo per ricordare la memoria e soprattutto il grande lavoro che Matteo ha fatto per i giovani di Rovigo.